sono le ore 23 e 16 minuti del giorno giovedì 24 aprile 2014 allora perchè questo video? voi direte beh a quest'ora che cosa vuole questo? ebbene si, voglio aprire insieme a voi il mio uovo di Pasqua voi direte ma Pasqua è passata ma io avevo 12 uova e già le ho aperte tutte ma non le ho mangiate tutte, ho dato un po' ai miei nipoti e tutte e questo qui era l'ultimo uovo che mi era rimasto quindi lo andiamo ad aprire insieme e vediamo la sorpresa che c'è all'interno ecco, solide minchiate ecco che cosa ho trovato nell'uovo di Pasqua ma la cosa più buona è questa salve!